Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Toukens e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. È da poco terminato l'evento tanto atteso, ossia quella della palla che c'era sopra piccol polare, si è aperta ed ha nevato tutta la mappa. Una volta concluso questo evento ragazzi sono uscite le sfide. Queste sfide ragazzi riguardano un pochino quel che già ci sono state durante l'evento di Allure. Infatti le sfide sono simili, ossia bisognerà eliminare degli zombie per portare a termine ciascuna sfida. Le sfide del primo giorno sono essenzialmente due. La prima riguarda il distruggere le fiere del ghiaccio, mentre la seconda riguarda l'infliggere dei danni alla legione del ghiaccio con armi esplosive. Per portare a termine questa sfida ragazzi dovremo equipaggiare un'arma esplosiva. Mi raccomando ragazzi non prendete le granate perché con questo oggetto non vi conta i danni che andrete ad infliggere agli zombie. Quindi per portare a termine questa sfida dovrete equipaggiare o un lanciarazzi o un lanciagranate. Da come potete vedere da questa roccia ghiacciata sponeranno tre tipi di zombie. Due zombie sono magri, uno luminoso e uno non luminoso, mentre uno zombie è un pochino più robusto. Per portare a termine questa sfida dovete fare i danni agli zombie magri. Da come potete vedere infatti ragazzi se andate a colpire questa tipologia di zombie vi conterà i danni, mentre andando a colpire lo zombie grasso non mi conterà nulla. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su. Se volete essere salutati nel prossimo video delle sfide della tempesta di ghiaccio lasciate un commento con l'hashtag salutami, condividete il video con i vostri amici e iscrivetevi al canale attivando mi raccomando la campanella per non perdere le notifiche di tutti i futuri video guida. Quindi ragazzi come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.